Una delle maggiori difficoltà nel comprendere le terapie brevi sta proprio a mio parere nell'entrare nella forma mentis, nella mentalità adeguata. Se ritieni che in poche sedute non potrai ottenere un cambiamento sarà sicuramente inevitabilmente così. Ora dobbiamo mettere che non viene spontaneo a pensarla diversamente perché significa mettere in discussione, a volte proprio abbandonare delle teorie, dei costrutti, delle epistemologie che spesso vengono insegnate negli studi ancora ad oggi più tradizionali universitari. Quindi non voglio entrare nel merito di una lezione di epistemologia però sarebbe davvero interessante se potesse definire quelli che per lei sono i punti chiave della forma mentis che un terapeuta deve assumere per poter fare terapia breve. Allora io direi che forse la cosa più utile è di partire da una cosa applicativa su cui tutti concordano. Io nel mio ultimo libro che è appena uscito, Il cambiamento strategico, tratto proprio di questo argomento. L'esperienza emozionale correttiva formulata per la prima volta da uno psicoanalista negli anni 40, Franz Alexander, è definita quel momento in cui il soggetto ha un'esperienza concreta che gli fa cambiare le sue sensazioni, le sue percezioni e quindi cambia reazione, cambia modo di sentire quella cosa, cambia modo di pensare a quello che vive e questo è ciò che innesca quel processo di cambiamento terapeutico che porterà alla guarigione. Ora su questo tipo di costrutto tutti concordano, tutti gli approcci concordano. Quindi partiamo da un fattore comune. Il cambiamento terapeutico avviene e avviene grazie a esperienze emozionali correttive che possono essere strategicamente indotte o casualmente arrivare. Ora qual è la forma mentis differente. Secondo gli approcci psicodinamici, come definisce bene Daniel Starn, che nel suo libro proprio sul momento presente dice che l'esperienza emozionale correttiva è qualcosa che avviene in modo imprevedibile e casuale. Quindi tu fai un trattamento, cerchi di rendere più consapevole possibile il paziente, vai ad analizzare il suo passato, la sua storia, i suoi sogni, le sue fantasie, usi gli strumenti tipici di approccio psicodinamico, poi a un certo punto casualmente arriva l'esperienza emozionale correttiva che può essere dopo poche sedute o dopo centinaia di sedute. La forma mentis di uno strategico che sta proprio nel termine strategia o logica strategica che significa che il modello viene a costituirsi sulla base dell'obiettivo da raggiungere e non sulla base della teoria da rispettare. Questa è la logica che sottende agli approcci strategici. Quindi in questo caso l'esperienza emozionale correttiva non sarà casuale, imprevedibile, ma sarà causale, prodotta con tecniche specifiche messe a punto per ottenere quell'obiettivo, esperimentate sul campo fino a essere validate. Per esempio, se noi prendiamo una delle psicopatologie che trattiamo di più, un disturbo ossessivo compulsivo, un'anoressia giovanile o un attacco di panico, si applicano delle tecniche fin dalla prima seduta che tendono a mirare a certi bersagli, che sono poi le tentate soluzioni disfunzionali che alimentano il problema per provocare esperienze emozionali correttive, ovvero fare in modo che il paziente cambi la sua percezione di quel suo sentire patologico che gli fa cambiare completamente la reazione e quindi esce dall'insanità e rientra nella sanità. È chiaro che se l'intervento è mirato e costruito strategicamente, il tempo si restringe. Questo direi che è da un punto di vista sia epistemologico, quindi teorico sia applicativo, la grande differenza, ma il processo di cambiamento terapeutico è lo stesso per tutti e tutti sono d'accordo. La differenza come lo produci? Deliberatamente, attraverso tecniche specifiche oppure aspetti che avvenga.